In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe puoi aggiornare i nostri telespettatori sulle condizioni attuali del tempo. L'ondata di caldo intenso che sta interessando la nostra regione sta per subire un netto ridimensionamento a causa dell'inserimento di vivaci correnti nord-occidentali. L'anticiclone africano si metterà da parte lasciando il campo ad un temporaneo inserimento di una propaggine dell'alta pressione delle azzorre, la quale almeno per 48-72 ore garantirà condizioni meteo gradevoli con temperature più consone al periodo in corso. Tornando all'ondata di caldo possiamo fare già un primo bilancio sulle temperature registrate nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 agosto. Sono stati superati 40 gradi centigradi come previsto su molte località interne della nostra regione, con punte che nella giornata di lunedì 12 agosto hanno raggiunto i 42 gradi centigradi su alcune pianure del Beneventano e Casertano. Altro fattore molto importante oltre alle elevate temperature è stato il tasso di umidità relativa che ha fatto registrare valori davvero elevati fino a superare il 90% lungo la costa nelle ore notturne. Un mix di caldo ed umidità che sta rendendo l'aria irrespirabile. Fortunatamente siamo ormai giunti all'epilogo di questa intensa e prolungata onda di calore. Come saranno invece le condizioni meteo per il giorno di ferragosto? Per domani, mercoledì 14 agosto, avremo cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica ma senza il rischio di precipitazioni, temperature ancora su valori molto elevati nella prima parte della giornata, con tendenza a diminuire nel corso del pomeriggio sera. Venti in intensificazioni da ovest-nord-ovest e mare da poco mosso a mosso. Giovedì 15 agosto cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore addensamenti in prossimità dei rilievi dove durante il pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche breve ed isolato rovescio. La tendenza è per un rapido miglioramento ovunque, temperature insensibile diminuzione con valori che si riporteranno in linea con la media stagionale. Diminuirà soprattutto il tasso di umidità, determinando una condizione di benessere fisico per tutti. Venti moderati da nord-nord-ovest e mare mosso. E per i prossimi giorni come sarà la tendenza? Tra venerdì e sabato le temperature inizieranno nuovamente ad aumentare, pur senza particolari eccessi. Una nuova ondata di caldo piuttosto intensa invece sembra profilarsi per l'inizio della prossima settimana, grazie al ritorno, manco a dirlo, dell'anticiclone africano. Dunque non ci sarà nessuna rottura stagionale, con l'estate che proseguirà a gonfie vele almeno fino a giovedì 22 agosto. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare il sito www.meteosette.it. Grazie a tutti.